Ciao a tutti ragazzi, oggi parleremo di indice glicemico. Molti di voi mi chiedono cos'è l'indice glicemico. Beh, agli inizi degli anni 70 un ricercatore che si chiamava Crapo ha iniziato ad accorgersi che alcuni alimenti contenenti carboidrati potevano aumentare lo zucchero nel sangue, quella che noi chiamiamo glicemia. Successivamente agli studi di Crapo il dottor Jenkins nel 1981 inventa una scala graduata che dice in maniera qualitativa quanto un alimento che contiene carboidrati può aumentare o meno lo zucchero nel sangue a un individuo. Alla base di questa scala graduata ovviamente troveremo la verdura che contiene pochi carboidrati ma soprattutto ha un basso indice glicemico, quindi si trova nella parte bassa della scala graduata. Salendo verso l'alto troveremo probabilmente la frutta, spostandoci ancora verso l'alto troveremo dei carboidrati che aumentano la glicemia in maniera media. Questi tendenzialmente sono i legumi o anche i cereali integrali. Più ci spostiamo verso il vertice più troveremo lo zucchero bianco, la pasta raffinata, i cereali e troveremo anche le gallette di riso e anche la birra che molto spesso supera addirittura lo zucchero da cucina e il valore 100. Quindi da un punto di vista qualitativo per valutare gli alimenti che contengono carboidrati certamente l'indice glicemico può essere uno, ma non solo, dei parametri utili per poterne valutare l'effetto che nel nostro corpo possono creare determinati alimenti. Con questo non è obbligatorio usare solo alimenti a basso indice glicemico, ma certamente quando useremo dei carboidrati ad alto indice glicemico come il pane, la pasta, le patate, la pizza, soprattutto raffinati, dovremo sicuramente fare quello che io vi faccio vedere nei miei video del mio corpo prestato alla scienza, l'abbinamento proteico. Le proteine inserite in quel pasto sicuramente rallenteranno l'assorbimento degli zuccheri nel sangue nelle ore successive al pasto. Successivamente altri ricercatori hanno lavorato a questo parametro inventato dal dottor Jenkins. Ad esempio esistono le tabelle più utilizzate in ambito scientifico, sono le tabelle australiane. Solitamente i riferimenti delle tabelle australiane dicono che tra 0 e 55 noi possiamo avere un indice glicemico basso, poi tra il 56 e il 69 possiamo avere un indice glicemico medio, superiore al 69, quindi da 70 a 100 o a volte persino anche oltre, noi possiamo avere un indice glicemico elevato. L'indice glicemico è un ottimo parametro per valutare la nostra alimentazione, certamente non è in via esclusiva l'unico parametro che noi nutrizionisti utilizziamo per poter prescrivere un'alimentazione. Dall'altra parte sicuramente è un parametro che ha anche dei limiti, perché comunque ognuno di noi ha una soggettività rispetto all'utilizzo dei carboidrati. In relazione a cosa? In relazione a molte cose, come ad esempio il rapporto che c'è tra la massa magra e la massa grassa di ognuno di noi. Essere sportivi e condurre una vita dinamica e sportiva certamente dà la possibilità di avere risposte inferiori al medesimo alimento rispetto a una persona sedentaria. Un alimento eccessivamente maturo rispetto a uno un po' più acerbo, sicuramente quello acerbo avrà un indice glicemico un pochettino più basso. I tempi di cottura influenzano l'indice glicemico, ad esempio una pasta al dente avrà un indice glicemico più basso rispetto a una pasta normalmente cotta o addirittura stracotta. La quantità di acqua, la quantità di fibre all'interno di un alimento incide sull'indice glicemico. Questo parametro è stato criticato per oltre 40 anni, quindi non è un parametro recente, stiamo parlando del 1981, quindi è stato molto criticato e neanche accettato da quello che è l'ambito medico-scientifico in ambito nutrizionale. Solo oggi comunque viene molto accettato. Ci sono state anche delle evoluzioni per eliminare alcuni tipi di problematiche che poteva causare l'indice glicemico o falsi positivi dell'indice glicemico, come il carico glicemico che correla anche non solo l'indice glicemico dell'alimento, ma anche il quantitativo di carboidrati contenuti in quell'alimento o in quel pasto, risolvendo quindi alcuni problemi che l'indice glicemico può avere. Detto questo, certamente l'indice glicemico può essere un parametro facile, pratico e anche applicabile per poterci dare un'idea o un'indicazione di cosa può avvenire nel nostro sangue. Come sapete la glicemia per noi e per il nostro stato di salute, ma anche per il nostro stato di performance, è determinante. Mantenere la glicemia stabile ci previene da molte malattie come il diabete, ma non solo. Tutte le malattie delle quali si sente parlare oggi comunque hanno una base infiammatoria e hanno anche una base di alterazione della glicemia e quindi di insulinemia elevata che genera poi successivamente l'infiammazione. Le tabelle dell'indice glicemico le potete trovare ovunque, non fatevi però condizionare da quei falsi positivi che vi elencavo prima, ad esempio il cocomero può essere un falso positivo perché in realtà il quantitativo per correlare da un punto di vista scientifico il cocomero a 50 grammi di zucchero significerebbe mangiare quantità di cocomero molto elevate e quindi viene collocato in alto nella nostra tabella graduata ma in realtà il cocomero poi ha un carico glicemico basso per via del fatto che il quantitativo per porzione di carboidrate all'interno del cocomero in realtà è molto basso. Dall'altra parte una cosa interessante e anche un po' curiosa è capire che l'indice glicemico del gelato è variabile in relazione certamente al gusto ma comunque un gelato buono tendenzialmente è addizionato di zucchero e dobbiamo concedercelo tranquillamente abbinandolo però le proteine, però a volte il cono o la cialda del gelato ha un indice glicemico più alto del gelato stesso, quindi non facciamoci condizionare, magari scartiamo il cono gelato quindi la cialda e gustiamoci il nostro gelato magari in una coppetta di cartone, dubito che qualcuno di voi potrebbe mangiare il cartone certamente quello potrebbe diminuire il carico glicemico del vostro pasto perché rimane un pochettino indigesto una piccola curiosità, l'indice glicemico non è stato inventato da Montignac, Montignac ha scritto un libro ma soprattutto ha scritto una dieta legata all'indice glicemico, in realtà lui ha lavorato solo sugli studi di Jenkins pubblicandone poi un libro perché ha visto nella pratica che applicando le tabelle dello studio di Jenkins poi aveva una reale efficacia in termini dietetici di dimagrimento dei suoi pazienti se ti è piaciuto questo video condividilo con i tuoi amici e seguimi sul mio canale ma anche sulle mie pagine facebook e il mio profilo instagram, ciao e al prossimo video